Buonasera a tutti, vi potrei dire che sono emozionato stasera ed è vero anche se purtroppo io che non avevo mai tenuto un microfono in mano prima dell'assassino di mio fratello è da anni che ormai mi sono dovuto abituare a parlare a tanta gente però è vero che sono emozionato stasera in maniera particolare perché questa piazza, questo incontro, mi ricordo un incontro che feci tanti anni fa a piazza Farnese fu il primo degli incontri dopo anni in cui ero stato in silenzio, quando ricominciai a parlare, quando alzai quel mio grido che era di resistenza che poi per anni mi hanno ricordato, io non so quanta gente ci fosse in quella piazza, so che oggi chiunque incontro mi dice io ero lì a piazza Farnese, non me ne ero accorto, c'era una piazza più piccola di questa ma evidentemente quel incontro è rimasto nel cuore di tanti così come è rimasto nel mio cuore io stasera mi hanno chiesto in tanti quando sono arrivato qui in questa piazza perché sono qui, perché sono venuto ecco io me lo sono chiesto anch'io però mi sono dato anche una risposta io sono qui innanzitutto perché qui sono sicuro di essere tra gente onesta non è soltanto un nome questo della notte dell'onestà io sono sicuro qui di essere tra gente onesta e purtroppo oggi riunire tanta gente onesta in una sola piazza non è assolutamente facile io sono qui perché di fronte a quello che sta succedendo nel nostro paese, nel mio paese, nel nostro paese io ci voglio mettere la faccia, ci voglio mettere la faccia e lo faccio anche se so che sarò criticato perché io che ho sempre detto che il mio movimento non deve essere avvicinato a nessun partito il mio simbolo dell'agenda rossa non deve mescolarsi con quello di nessun partito e continuo a dirlo, qui sono tra amici io non posso scordare che sono stati i meet up che quando io, quando Salvatore Borsellino non lo conoscevo nessuno quando ho deciso di ricominciare a parlare sono stati i meet up che mi hanno invitato in ogni parte d'Italia per darmi quella voce che l'informazione non mi dava perché? Perché io dicevo, avevo cominciato a dire che Via D'Amelio era stata una strage di Stato e queste cose nel nostro paese non si possono dire io sono qui perché io per quello che faccio ci voglio mettere la faccia e vivo purtroppo in un paese in cui invece tanti preferiscono mettere il culo su una persona, su una poltrona e poi sfruttare quella poltrona per poter fare non gli interessi pubblici, gli interessi di tutti ma per poter fare esclusivamente i propri interessi e io so che i giovani che ci sono qui anche quelli che siedono oggi in Parlamento invece si comportano in maniera diversa cercano di fare diventare la politica quello che dovrebbe essere non quello che purtroppo è oggi la politica purtroppo è diventata qualche cosa quasi un insulto dire che una persona è un politico invece questi giovani e sono per la maggior parte i giovani quelli che siedono in Parlamento e mi hanno invitato a venire qui tendono veramente a cambiare la politica e nel nostro paese è difficile ripeto un paese in cui i politici ci mettono il culo sulle poltrone in cui che vengono chiamati ad occupare e pensano ai propri interessi per loro non è difficile perché tanti di questi politici hanno la faccia esattamente come il culo e quindi c'è poca differenza per loro ma io ma io sono qui soprattutto per un motivo perché io penso che quello che sta succedendo nel nostro paese questo diciamo marciume che è venuto fuori qui a Roma dall'inchiesta su Roma sulla mafia che è arrivata a questo cancro che è arrivata anche a corrodere la capitale del nostro Stato ha una genesi ben precisa la genesi è questa se uno Stato di diritto come è successo nel nostro paese accetta di avviare e di portare a compimento una trattativa con la criminalità organizzata non può succedere che quello che è successo nel nostro paese il nostro vedete è un paese difficile è un paese il paese in cui viviamo la nostra storia la dividono in Prima Repubblica Seconda Repubblica ebbene la Prima Repubblica ha un peccato originale la Prima Repubblica il peccato originale della Prima Repubblica è la strage di Portella della Ginestra e la trattativa anche in quel caso tra mafia e Stato che eliminò quel bandito giuliano di cui lo stesso Stato prima si era servito e poi nel momento in cui non ne aveva più bisogno si accordò con la mafia perché venisse eliminato e quando uno Stato scende a trattativa con la criminalità e con la criminalità organizzata non può succedere quello che è successo che la morale pubblica decada che la politica si confonda con la criminalità stessa è quello che è successo nel nostro paese è quello che è successo nel nostro paese perché quella che poi chiamano Seconda Repubblica ha alla genesi un altro peccato originale quella trattativa per la quale è stata sacrificata la vita di Paolo Borsellino e dei ragazzi della sua scorta per permettere di salvare la vita ad alcuni politici che con la mafia e che erano scesi a patto e che per i quali la mafia riteneva che questi patti non fossero stati rispettati e quindi non solo diciamo venne come prima battuta ucciso Salvo Lima che era il vice re di Andreotti in Sicilia impedendogli in questa maniera di diventare Presidente della Repubblica perché è quello che stava succedendo nel 90 nel 92 Andreotti un prescritto per reati di mafia condannato e prescritto per reati di mafia stava per diventare Presidente della Repubblica quindi noi viviamo in un paese in cui dobbiamo ringraziare la mafia per non avere avuto un Presidente della Repubblica prescritto per reati di mafia e questo è vergognoso è vergognoso ed è vergognoso il fatto che lo Stato per salvare la vita ad alcuni ex potenti democristiani che erano stati accusati dalla mafia di non avere rispettato i patti patti che evidentemente erano stati stipulati se poi non erano stati rispettati ha sacrificato la vita di un di sei servitori dello Stato come Paolo Borsellino e i ragazzi che sono morti insieme a lui perché a quella trattativa Paolo si è opposto si deve essere opposto con tutte le sue forze con tutto il suo senso dello Stato lo Stato che trattava con gli assassini di suo fratello perché Giovanni Falcone era veramente fratello di Paolo non ne io non ne io e con Paolo in vita quella trattativa non avrebbe mai potuto andare avanti e quindi Paolo è stato eliminato per portare avanti quella trattativa di cui poi per vent'anni per vent'anni politici di destra e di sinistra hanno continuato a pagare le gambiali e ancora oggi le pagano ancora oggi le pagano se oggi si tratta su chi deve essere il prossimo presidente della Repubblica si tratta con un criminale affidato ai servizi sociali se oggi se oggi se oggi si si porta avanti se oggi si porta avanti ed è quello che chiamano patto del nazareno che non è altro che una trattativa fatta davanti a tutti la trattativa per cui è stato ucciso mio fratello era non doveva essere conosciuta c'è stata una congiura del silenzio che è durata per vent'anni in cui i personaggi delle istituzioni che quella trattativa sapevano che quella trattativa conoscevano che quella trattativa avevano partecipato continuavano a negarla e ne hanno cominciato a parlare soltanto quando un collaboratore di giustizia e un figlio di un mafioso ne hanno cominciato a parlare io ritengo che il silenzio sulla trattativa che è durato per vent'anni la congiura del silenzio che c'è stata sulla trattativa è una cosa estremamente grave altrettanto più grave della trattativa stessa e che oggi è venuto alla luce tramite un un ex rottamatore che sta rottamando solamente la nostra costituzione sta rottamando il nostro stato di diritto perché quello che sta avvenendo nel nostro paese nel momento in cui si preferisce scendere a patti piuttosto che con una forza politica sane che ci sono nel nostro paese voi sapete quale sono queste forze politiche sanno perché per questo che voi siete qui oggi si preferisce invece trattare ripeto con un criminale affidato ai servizi sociali per addirittura per riformare la nostra costituzione per riformare la nostra legge elettorale e sicuramente questo farà sì che ancora una volta non ci venga ridato il diritto di voto perché io vorrei che le piazze si riempissero nel nostro paese per credere che ci venga finalmente ridato il diritto di voto per chiedere che finalmente possiamo essere noi a scrivere i nomi delle persone che ci vogliono rappresentare che non siano i segretari dei partiti a scegliere quei nomi e sapete come li scelgono nel migliore dei casi tra le persone più controllabili nel peggiore dei casi tra le persone più ricattabili e sono ricatti che spesso si fondano sui ricatti incrociati che vanno avanti nel nostro paese e che si basano sul contenuto di un'agenda rossa che è stata trafugata dalla macchina di Paolo e sulla quale c'è scritto a lettere di fuoco quello che è il percato originale del nostro paese quella trattativa che ancora continuano a chiamare presunta e che invece è stata quella che è stata chiamata la scatola nera della seconda repubblica quello su cui si basano gli accordi che quella che non possiamo chiamare più sinistra si stipola con quella che non possiamo chiamare più destra oggi nel nostro paese non esistono più la destra non esiste la sinistra c'è una cozzaglia di persone che occupa il Parlamento e lo fa soltanto per come ha dimostrato l'inchiesta di mafia capitale dove praticamente è indistinguibile la criminalità mafiosa dalla politica dall'imprenditoria ormai quello che era un tumore che aveva era nato e grazie al fatto che lo Stato aveva abbandonato anche il controllo del territorio delle regioni del nostro sud della criminalità organizzata si è espanso è entrato in metastasi e io credo che oggi non si sia regione del nostro paese che sia immune da questo cancro un paese in cui purtroppo un presidente della Repubblica come è successo per il secondo settennato di quel presidente del cosiddetto presidente della Repubblica di cui finalmente ci siamo liberati è stato eletto soltanto è stato eletto soltanto perché potesse fare da garante del silenzio sulla congiura del silenzio sulla trattativa che è durato per vent'anni io ricordo quando Violante alla Camera disse e io mi chiedo il perché disse in un'intervento alla Camera noi non non faremo mai una legge sul conflitto di interessi noi non toglieremo mai a Berlusconi la sua televisione quella era la dichiarazione fatta nel nostro Parlamento di una trattativa che continuava di un accordo che continuava tra quella che chiamavano sinistra e quella che chiamavano destra accordo che è stato messo in luce e io ritengo che sia alla fine un merito del Movimento 5 Stelle di non avere voluto fare un governo con 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 la sinistra la sinistra non l'avrebbe mai fatto non l'avrebbe mai fatto era nient'altro che una pantomima quello di offrire di fare il governo al con con il Movimento 5 Stelle alla alla sinistra a chi regia la sinistra al rottamatore dell'Italia al rottamatore del nostro stato di diritto non interessava altro che fare quello che ha fatto cioè tirare fuori dal fango Berlusconi perché quello che è stato fatto era una persona ormai nel suo stesso partito era una persona ormai a declino in una persona ormai veramente da rottamare è stato preso dal fango al quale si trovava rimesso al suo posto in un partito che ormai non è neanche più tutto dalla sua parte per distruggere insieme la nostra Costituzione perché è quello che stanno facendo è quello stanno facendo non stanno facendo altro che fare passare sotto un viso diverso sotto un viso più piacevole un viso che al cui purtroppo che molti accettano fare passare le stesse riforme che lo stesso Berlusconi non era riuscito a far passare ben già dal governo perché la sinistra doveva fingere fingere di fare una posizione che in effetti nel nostro paese non c'è mai stata questa è la verità è per questo è per questo che io sono qui io spero io spero io spero che non ci dovrà toccare per un altro settennato di avere un Presidente della Repubblica come questo che c'è stato che è stato il peggiore Presidente della nostra storia messo in quel posto soltanto per garantire il silenzio sulla trattativa è per questo che è stato messo in quel posto purtroppo purtroppo visto che gli accordi per eleggere questo Presidente stanno vengono fatti in base a questo patto del Nazareno che non è altro che una trattativa fatta davanti agli occhi di tutti fatta a cielo aperto purtroppo gli auspici non sono dei migliori è per questo che io credo che sia necessario una mobilitazione continua io sette anni fa in Piazza Farnese ho lanciato un grido ho lanciato un grido che sono passati sette anni ma oggi purtroppo è ancora necessario quanto sette anni fa è ancora addirittura più necessario è necessario che noi resistiamo che noi facciamo sì che questo Paese non continui su questo clima perché il fondo non sappiamo dove sia chiediamo sempre di aver raggiunto il fondo ma il fondo è sempre più in basso e quindi anche questa volta da questa piazza non posso fare altro che alzare il mio grido resistenza 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.